Quando lo Stato presenta il conto non c'è nessuno che possa salvarsi, nemmeno chi ha denunciato i mafiosi mandando in carcere gente senza scrupoli che chiedeva il pizzo alle aziende sane ed oggi rischia anche la vita perché quello stesso Stato lo ha scaricato. E' successo ancora una volta ad Ignazio Cutrò, l'imprenditore di Bivona, ideatore dell'Associazione Testimoni di Giustizia che dopo aver fatto scattare importanti operazioni antimafia si è visto smontare le telecamere di sorveglianza collegate con la caserma dei carabinieri che lo Stato aveva fatto installare per proteggerlo quando doveva testimoniare e far condannare i mafiosi o presunti tali. L'ennesimo episodio è stato raccontato dallo stesso Cutrò, è passato un ragazzo, pensavo venisse a trovarci per un caffè, invece era il postino della riscossione Sicilia. Entro cinque giorni pretendono circa 39.000 euro, cioè parte di un debito accumulato dei miei debiti con gli organismi dello Stato, mentre la mafia mi danneggiava e attaccava l'azienda, ora passata in mano loro per la riscossione coatta. Sono passati vent'anni, da lontano 1999, quando denunciai il primo attentato poco tempo fa. Le banche, adesso riscossione Sicilia, una sentenza annunciata già da tempo ai piani alti. Denunce la mafia, lo Stato ti protegge, cerca di assisterti ma una volta mancano le norme, dall'altra l'uomo delle istituzioni che tratta una pratica o dimentica di evaderla. Poi Cutrò ricorda il caso dell'imprenditore Rocco Greco di Gela, ha denunciato la mafia ed è strano agli ambienti della malavita, ha perso tutto per i ritardi della burocrazia, purtroppo si è tolto la vita vendendosi, tradito allo Stato. Io sono stanco, aggiunge Cutrò, volevo continuare a fare l'imprenditore, non è mai stato permesso, vivo di stipendio, oggi come pago tutti questi debiti accumulati con lo Stato per i danneggiamenti subiti dalla mafia e per le varie perdite nelle commesse subite durante le mie denunce. Io ho denunciato ed ho continuato ad assistere, a portare alla denuncia imprenditori, nonostante ne abbia viste parecchie di problematiche o ritorsioni personali, io mi rivolgo alla politica sana ed elenca una serie di nomi. Piera Aiello, componente della Commissione Antimafia e Testimone di Giustizia, Claudio Fava, Nello Musumeci, Luigi Gaetti, Nicola Morra, fino al Ministro dell'Interno Matteo Salvini, al Premier Giuseppe Conti, Presidente del Consiglio dei Ministri. Tutti, dice Cutrò, si contraddistinguono assieme ad altri per l'interesse comune di sconfiggere la mafia, ma nel mio caso ha già vinto perché ho perso l'azienda e i debiti sono rimasti nel vivo, ha vinto perché la mia famiglia è rimasta senza protezione, ha vinto perché lo Stato non è più interessato alla mia protezione. Infine l'appello, intervenite affinché non vengano aggredite casa e stipendio, poiché la mia famiglia ne ha già passate tante e non resisterei a questa ennesima mortificazione.